Altra sconfitta per il Monopoli che sul terreno del San Vito Marulla cede il passo con il punteggio di 2-0 ai padroni di casa del Cosenza. Una battuta d'arresto che complica ulteriormente il cammino della formazione bianco-verde, ormai caduta in una crisi di risultati e con il tecnico Tangorra in bilico da settimane. Terzo successo consecutivo per il Cosenza che dopo un inizio difficile è riuscito per la prima volta a conquistare un piazzamento play-off. Nella prima frazione, tanto equilibrio, i bianco-verdi di Tangorra si fanno preferire in fase di possesso. Al 28esimo e Zampa a calciare dai 15 metri, Saracco blocca in due tempi. L'unica azione degna di nota di marca Cosentina arriva a 4 minuti dall'intervallo con Mendicino che aggancia il volo in aria ma viene steso, il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste. Nella ripresa cambia l'inerzia del mece e al 60esimo il cross di Dorazio a scavalcare la difesa e preda di Tutino che schiaccia di testa in fila all'angolino dove Bardini non può arrivare. Cosenza in vantaggio e Monopoli costretto a rincorrere. La gara sale di intensità agonistica e scoppa, si becca il secondo giallo lasciando i suoi in dieci uomini. Nel finale il gabbiano mola la presa e all'87esimo Berardi rinvia in malo modo fuori dall'area di rigore servendo Bruccini che dalla tre quarti fa partire una perfetta parabola che scavalca l'estremo difensore e termina in rete. Finisce 2-0 con la festa del consenza e un Monopoli che vede lontana la luce in fondo al tunnel.